Una produzione fuori dal tempo, un viaggio che richiede di essere vissuto accompagnati da carta e penna e che riporta anche le lancette indietro di un paio di decenni. Questo è Lorelai and Laser Eyes. In parole povere, il titolo di Simo Go disponibile dal 16 maggio per PC e Switch è quanto di più distante possa esistere dai binari del mercato di massa. Ma in fondo l'arte deve necessariamente sottostare alle regole del mercato. E soprattutto deve per forza inseguire la ricchezza. Se ci seguirete in questo vischioso incubo in bianco e nero, avrete forse la risposta a questa e a molte altre domande. Una giovane donna scende da un'automobile nel bel mezzo di un bosco dell'Europa centrale, poco distante da un imponente hotel all'apparenza disabitato. Nella borsetta che si porta appresso, la signorina ha solo lo stretto indispensabile, fra cui un'enigmatica lettera d'invito firmata Renzo Nero, ossia un leggendario regista italiano che l'ha convinta a raggiungere quel luogo dimenticato da Dio. Bene, e questo è tutto. Fine. Non c'è nessun'altra informazione. Non si sa infatti chi sia la donna, non si conosce il motivo della sua visita e soprattutto le coordinate temporali appaiono più che mai confuse. La trama dell'opera di Simo Go infatti non si può raccontare né tantomeno riassumere a grandi linee perché coincide con l'anima stessa del progetto, ed è oltretutto il motore che spinge a sondare ogni centimetro dell'albergo, trovando la sua essenza nel turbine di emozioni che scaturiscono dalla scoperta. Siamo di fatti al cospetto di un thriller investigativo, di una caccia ad un antico tesoro perduto, di un viaggio psicologico che pone quesiti filosofici, nonché di una storia di una donna misteriosa e della manciata di bizzarri comprimari che la circondano. Così come una novella Ariane, la protagonista si troverà ad inseguire diversi fili rossi nel grande labirinto del Let's Des Yars, raccogliendo scampoli di informazioni che si riveleranno più preziose di qualsiasi tesoro e che, oltre a regolare la progressione, convergeranno anche tutte verso un unico centro. Infatti dialoghi, documenti, lettere, locandine cinematografiche, articoli di giornale e persino videogiochi nel videogioco costituiscono le tessere di un mosaico sul quale è impossibile maturare una visione d'insieme, o almeno se non pochi istanti prima dello scorrere dei titoli di coda, quando cioè il caos assume quei contorni chiari che lasciano qualche sottile spiraglio per l'interpretazione. Tutto all'interno dell'hotel Let's Des Yars rappresenta un enigma. Sono infatti enigmi anche le scorciatoie e le mappe, ed è un enigma qualunque libro appoggiato sugli scaffali delle stanze, il telefono della reception e persino la macchinetta del caffè. Quella proposta da Simogo è quindi un'esperienza in cui la progressione combacia con la comprensione. Certo, spesso capita di dover raccogliere e aggiungere all'inventario anche delle chiavi, ma nella maggior parte dei casi basta l'intuizione di un istante per spalancare all'improvviso dozzine di strade in precedenza inaccessibili. L'importante insomma non è tanto risolvere il puzzle di turno, bensì capire il linguaggio che quel puzzle sta utilizzando per comunicare con l'utente. Nella borsetta della protagonista c'è inoltre un libretto di istruzioni che mette subito le cose in chiaro. Questo gioco richiede la conoscenza dei sistemi presi dal vissuto come la matematica, la logica e i sistemi di conteggio del tempo, e soprattutto ci domanda di giocare anche fuori dal confine dello schermo. Carta e penna citati in apertura non sono dunque accessori opzionali, bensì strumenti indispensabili, a tal punto che gli sviluppatori hanno ridotto ai minimi termini il sistema di controllo, consentendo dunque di utilizzare una sola mano per destreggiarsi nei corridoi. L'esplorazione delle sale poi, nella maggior parte dei casi, è ancorata a un sistema di telecamere fisse che richiama da vicino le atmosfere dei survival horror degli anni 90, e di fatto l'unica differenza strutturale rispetto ai manieri ben più famosi è che qui qualsiasi dinamica d'azione è sostituita dalle interazioni con l'ambiente, mentre l'unica arma disponibile è il ragionamento. L'introspezione è dunque fondamentale, e non solo al di fuori del mondo virtuale. Sostituendo di fatto il menu di pausa, questa meccanica consente infatti di sfruttare la memoria fotografica della protagonista per avere a disposizione in qualsiasi momento tutte le informazioni raccolte, che ovviamente sono essenziali per aprirsi un percorso. I puzzle poi riescono a dimostrarsi quasi sempre impegnativi e intuitivi al tempo stesso, salvo nei casi in cui manca all'appello qualche tessera fondamentale. La progressione nell'albergo adotta infatti una struttura radiale, e se capita magari di rimanere bloccati in una direzione, è sufficiente imboccarne un'altra fino a trovare la chiave che tanto a lungo era sfuggita. Ad ogni modo le soluzioni sono spesso casuali o comunque generate proceduralmente, e per arrivare in fondo è dunque possibile fare affidamento solo sulle proprie forze. La sticella generale della difficoltà si posiziona dunque al di sopra degli standard del genere, tanto che gli stessi sviluppatori hanno dichiarato di aspettarsi che solo una frazione minima del pubblico riuscirà a portare a termini l'avventura. Bianco e nero, dicevamo, con l'aggiunta di pennellate di rosso. L'intera palette cromatica del gioco si esaurisce infatti attorno a questi tre colori, utilizzati per dipingere personaggi e ambientazioni che definire ispirati è davvero riduttivo. A sorprendere poi è più che altro il grado di attenzione riservato ai particolari, come ad esempio i loghi delle corporazioni presenti nel mondo di gioco e le opere d'arte virtuali o le lucandine cinematografiche anni 50. E sono tutti dettagli questi che arricchiscono uno sforzo artistico più unico che raro. E la stessa cura coinvolge poi anche il comparto sonoro, tra pochi brani molto significativi e una pioggia di effetti sonori che restano impressi nella memoria. Ma su tutti è la scrittura a colpire davvero, viaggiando tra dialoghi surreali, suggestioni filosofiche, metaracconti, giornali fittizi e documenti ufficiali che celano informazioni essenziali senza mai esagerare, e freggiandosi tra l'altro di un'eccellente localizzazione in italiano. L'elemento più affascinante tuttavia risiede nella natura camaleontica dell'intera esperienza. La struttura di questo viaggio cambia infatti di continuo e senza preavviso, trasformandosi magari in un videogioco low-poly in stile prima PlayStation, assumendo i connotati dell'avventura grafica vettoriale stravolgendo le regole della telecamera o aprendo a segmenti da avventura testuale. Insomma, il concetto del labirinto insondabile qui oltrepassa il limite delle meccaniche di gioco per investire anche la messa in scena. L'effetto sorpresa la fa dunque da padrone, ed esplorando i corridoi dell'albergo potrebbe davvero accadere di tutto. Ecco, forse l'unico spigolo risiede nel fatto che non tutte le variazioni sul tema siano perfettamente integrate nel tessuto narrativo, ma tant'è. Beh, ormai l'avrete capito, l'opera di Simogon non è pensata per soddisfare tutti i palati. Anzi, si potrebbe discutere del fatto che non sia assolutamente pensata per soddisfare qualcuno. Semplicemente quindi esiste, è un videogioco che gli sviluppatori si sono trovati a creare e in quanto tale si rivelerà buono quanto lo sarà il suo pubblico. Considerata poi la natura del progetto, è molto difficile analizzarlo in maniera chiara senza guastare l'esperienza di gioco. Esprimersi in maniera vaga è dunque quasi un obbligo, perché ogni elemento trasforma la ventina di ore che costituiscono l'avventura in una ricerca ossessiva, nonché capace di far riflettere davanti al monitor anche per svariati minuti senza percepire la sensazione di star sprecando del tempo. La volontà di realizzare una grande opera d'arte e le implicazioni del viaggio dell'artista sono dunque fra le poche costanti che accompagnano il nostro fumoso vagare nell'albergo. Che si tratta di un messaggio pensato per valicare il limite dello schermo? Chissà. In definitiva, Lorelai and the Laser Eyes è semplicemente Lorelai and the Laser Eyes. È difficile, infatti, trovare altre parole per descrivere questo titolo, perché rifugia qualsiasi genere o termine di paragone in favore della sua strana identità. L'Hotel Let's Desiare è un labirinto fuori dallo spazio e dal tempo. È un thriller investigativo, una ricerca ossessiva e una profonda riflessione sull'arte. Il tutto poi incorniciato in uno stile estetico fuori di testa. Voi invece cosa ne pensate di un prodotto del genere? C'è ancora spazio secondo voi al giorno d'oggi per esperienze simili? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità su tutti quei titoli originali che mettono in discussione le certezze del nostro medium preferito. Qui accanto invece come sempre trovate dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!